Questo è un altro gioco, la macchina del ricello, come puoi dire? Ti vuoi? Ma scherzi? Mh... Ma poi non sono, basta un niente, basta un... Lo giri un po' di qua invece che più lato e deve fregare E' andato! Qui! E' qui! Qui! E' il risultato lì che... Oh! Questo è tremendo! Stai toccando Se qui è fulgante Sì!! E' un po' di dove? Ma che fulgante è? E' un po' di... Qua fulgante è? Ma quest'anno... ... abbiamo fatto un po' abbiamo fatto pochi eh per inerziamo coloro dietro ma ce lo puse ma ora è un uco prendeci qua eh andiamo via andiamo via ma mai dentro ma mai dentro